Benvenuti in una nuova puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Io sono Marco Bignozzi, in studio con me, Barbara Banco. Ciao Barbara! Ciao Marco, ciao a tutti! Questa sera la favola potrebbe iniziare così. C'era una volta un bambino, nato da una mamma e da un papà, che però, inconsapevoli, lo hanno ceduto come merce ad un'azienda privata. Certo, potrebbe sembrarvi un inizio abbastanza forte, d'altronde si parla di una frode questa sera. Allora, parleremo della frode del nome legale e è proprio da lì che si crea il certificato di nascita e la frode. Barbara, cosa ci dici di questa frode e di questo certificato soprattutto? La frode del nome legale è qualcosa di molto ampio, a cui chiaramente va dedicata più di una di queste nostre chiacchierate. Iniziamo dal certificato di nascita. Il certificato di nascita non lo avete nella vostra casa e non lo potete ottenere. Perché? Perché è quello che redige all'ospedale l'ostetrica. Una curiosità sull'ostetrica. In realtà, nel 1957, dopo una lunga diatriba, l'ostetrica diventa un pubblico ufficiale. Perché un'ostetrica in un ospedale dovrebbe essere un pubblico ufficiale? Perché qui inizia la storia del diritto dell'ammiragliato, che paragona la nostra entrata in ospedale all'ingresso di una nave in porto. Infatti, sulla banchina, le bank, così si chiama, c'è ad aspettare un pubblico ufficiale che scaricherà le merci, che segnerà se la merce è rotta, se la merce è buona, il colore, la forma, il peso. E' esattamente quello che fa l'ostetrica in ospedale. Scrive quanto è bambino pesa, quanto è alto, che colore ha gli occhi e soprattutto se è sano. E lì dà al bambino un punteggio rispetto al suo stato di salute. In questo certificato, che viene subito e immediatamente inoltrato alla procura, non appare una figura importantissima, che è la madre. Appare la puerpera, che viene dal latino puer, fanciullo, garzone, e che rappresenta una donna che ha partorito. Ma un qualsiasi donna può partorire, ma non è la madre di quel bambino specifico. Quello che voi potrete ottenere dall'anagrafe o dalla procura è l'atto di nascita, che è la trascrizione del certificato di nascita. Lì, la prima cosa che salta all'occhio è come scritto il vostro nome. Attenzione, articolo 6 del Codice Civile. Il nome è formato dal prenome e dal cognome. Ma la chiarezza di questo articolo ci mostra che prima si scrive il prenome e poi si scrive il cognome. Se andate a controllare, ma non solo sul certificato di nascita, ma anche su tutto quello che vi arriva da quello che io chiamo sistema integrato criminale, è scritto prima cognome e poi nome. Chi lo dice come vanno scritte le cose sugli atti pubblici? Lo dice il Presidente della Repubblica. In un decreto del Presidente della Repubblica, specificatamente il 396 del 2000, dove negli articoli di legge c'è scritto che sugli atti pubblici va scritto nome e cognome. Questo in pieno accordo con l'articolo 6 di cui abbiamo parlato prima. Tranne che in un articolo, l'articolo 38. In questo articolo è specificato chiaramente cognome e nome in funzione di chi? Dei trovatelli. Attenzione, se sparisce la madre e sparisce il padre, perché nel certificato di nascita diventa dichiarante, com'è questo bambino? Un trovatello. Ecco che il cognome prende il sopravvento sul prenome e diventa cognome e nome maiuscolo. Attenzione, questo è il primo indizio della frode. È la prima parte di una lunga serie di informazioni che saranno necessarie per capirla, che ci dà l'indizio che non siamo noi quelli scritti lì. Wow, Barbara. La trama di questa faula si infittisce sempre di più. L'unica cosa che non ho capito è perché fanno questo? Cioè perché cambiano le loro leggi, cambiano... Te lo spiego la prossima volta Marco. Va bene, allora rimarrò in trevitante attesa per il sequel di questa favola. Da Marco Bignozzi, Barbara Banco, arrivederci alla prossima puntata. Naturalmente non dimenticatevi di andare a visitare il sito www.noieiosono.com. Alla prossima! Naturalmente non dimenticatevi di andare a visitare il sito www.noieiosono.com.